Voltiamo pagina e lo facciamo per parlare della Marathon Bologna che si svolgerà domani nelle lungole vie della città. Lo facciamo insieme ai due organizzatori Jacopo Secchi e Fabio Cavallari. Benvenuti. Buonasera. Buonasera. Jacopo Secchi, terza edizione di un evento cresciuto molto di edizione in edizione. Ricordiamo alcuni numeri. Parliamo di 8.000 runner, di cui 6.000 competitivi e 2.000 non competitivi in crescita perché domani le iscrizioni rimarranno aperte in Piazza Maggiore. 77 nazioni, quindi tutto il mondo. Abbiamo anche gli Stati Uniti, il Brasile, Taipei, quindi tante nazioni. Avremo anche degli artisti famosi, fra cui Gianni Morandi e Piero Barone del Volo. Fabio Cavallari, sotto il nome di Bologna Marathon però ci sono tante gare. Sì, ci sono tre competitive, la regina, quindi la maratona di 42 km, abbiamo la 30 km dei Portici e la 21 km, quindi la mezza maratona. Poi abbiamo anche per tutti i cittadini la 5 km, quindi la corsa per il centro della città che si può fare anche camminando. E la piazza di Bologna è anche in festa? È una grande festa, è una grande festa. Siamo già in Piazza Maggiore da venerdì, quindi da ieri. Oggi c'è stata tantissime persone che sono venute per i pacchi gare all'Expo e quindi c'è già una bella festa, il palco, le presentazioni. E ci sono alcune novità quest'anno? Ci sono tante novità. La prima è stata proprio oggi con la corsa dei bambini. Avevamo 300 bambini che si sono emozionati tantissimo a correre con noi. Tante novità, quella delle bande, ad esempio musicali. Abbiamo più di 350 musicisti che suonano lungo le vie della maratona. Un incitamento per i run, ma anche per scendere in strada e vivere la maratona come una festa. Jacopo, qual è lo spirito di questa iniziativa? Abbiamo lavorato su un evento che davvero si rivolge a tutti, quindi sarà un clima di grande festa. C'è tanta gioia, tanta attesa, quindi invitiamo davvero tutti a scendere in strada e festeggiare con noi. Ci sarà qualche modifica alla viabilità della città? Inevitabile, infatti ci scusiamo, però abbiamo cercato di fare un grande lavoro di comunicazione, sia noi come evento, ma anche comunque il comune di Bologna. E quindi confidiamo nella comprensione dei cittadini e soprattutto nella loro adesione. Grazie, grazie a Jacopo Secchia, a Fabio Cavallari, buona maratona. Grazie.